Ciao, un saluto a tutta l'organizzazione di PrestoSì. Mi ha detto Vincenzo Barba, il nostro fantastico presidente, conosco lei Versiani, persona molto bella, di mandare un saluto. Un saluto, beh, mancano pochi giorni, fra poco saremo insieme per poter vivere insieme il rapport is power, quindi il rapporto e il potere. È il primo modulo di questo percorso che faremo di diversi step e quindi la conseguenza del volume è partire dal rapporto. Rapport is power vuol dire empatia, vuol dire simpatia, non stai vendendo un prodotto, non stai vendendo un servizio, stai vendendo te stesso, quindi tu sei il prodotto. Il prodotto del prodotto sei tu e quindi è importante capire qual è la relazione che ti collega al cliente, quindi è importantissimo quell'alchimia empatica che nasce da quella capacità di capire chi è il cliente, chi somiglia si piglia, quindi dovrai diventare i clienti che incontri. I clienti sono di diversi tipi, quindi dovrai avere una cultura, una formazione, una conoscenza, una competenza polietrica, policromatica per poter capire ogni situazione che incontrerai con il tuo cliente. Quindi faremo un lavoro straordinario, ci saranno esercizi studenti, addirittura sceglieremo qualcuno dal gruppo, dal team, dalla squadra che potrà diventare una quercia, marmo, in 5 minuti e lo sistemano fra due sedie, testa a piedi, per far vedere il potere della mente sul corpo. Fermo anche l'ancoraggio, il cerchio dell'eccellenza, ci saranno diversi esercizi straordinari in una conseguenza temporum che sarà la Purtis Power. Quindi ci tengo a darti un saluto con amicizia, con simpatia, salutando Vincenzo per tutti voi, grazie e a franco. Ciao!